Sharon oggi hai esordito in Biuna e hai conquistato pure un punto. Come vedi questo tuo ingresso in questo campionato? È il secondo ingresso che riesco a fare in questo campionato e per me è stata comunque un'occasione irripetibile perché allenarsi con questa squadra che mi ha accolto come se fossi una di loro che da sempre ha giocato in questa categoria e comunque un allenatore come Antonio Menez è stata veramente un'opportunità per me. Difatti tutte le tue compagne ti hanno incoraggiato quando sei entrato in campo e poi ti hanno applaudito quando hai segnato quel bel punto? Sì, infatti per questo sono grata fino all'ultimo secondo. Ok, grazie. Di niente.